Grazie, approfitto dello spazio che mi offrite per lanciare dei messaggi, farò riferimento alla situazione generata dal coronavirus sia sugli eventi accaduti, sia su ciò che sta accadendo e su ciò che accadrà. Su quello che è accaduto vorrei ricordare che per quanto riguarda la casa di riposo di cui sono Presidente, ormai da 40 giorni abbiamo assunto delle iniziative di contenimento, dal 24 febbraio abbiamo limitato le visite agli esterni e poi dal 4 marzo abbiamo chiuso completamente gli ingressi, per cui il mio primo appello è doveroso ed è rivolto ai parenti dei degenti, perché non possiamo far altro che immaginare la loro grande sofferenza, anche alla luce delle notizie che ci arrivano da molte case di riposo. Io vi voglio rassicurare che il personale, oltre a provvedere alla normale assistenza, si preoccupa di trasmettere ai degenti quel carico di umanità che è venuto loro a mancare allontanando i parenti e gli amici e quindi esasperando la loro solitudine. Sappiano che per gli operatori della casa di riposo lì non ci sono delle persone vecchie da assistere, ma ci sono delle persone care. Il secondo appello invece lo voglio fare in riferimento a ciò che sta accadendo ed è quello di porgere la massima attenzione alle case di riposo, che sono delle vere bombe a orologeria. Siamo stati travolti da uno tsunami, si dice, del coronavirus ed è vero e si sono concentrate tutte le forze su quella che è la prima linea, cioè sugli ospedali, che hanno dovuto far fronte a una richiesta improvvisa ed enorme. Questo ha comportato che tutto il personale disponibile, quindi il personale che stava nelle graduatorie o in nuovi assunti da concorsi aperti rapidamente, sono stati dirottati negli ospedali, il che va molto bene, ma questo ha depauperato le case di riposo che già avevano dei problemi anche in tempi ordinari. L'ospedale è sicuramente la prima linea, io lo so molto bene, ci ho passato tutta la vita e devo dire che in questo momento provo anche tanta sofferenza a vedere i medici, gli infermieri, le os, i tecnici. Li vedo un po' come dei soldati della prima guerra che venivano mandati, lanciati contro i reticolati all'assalto a mani nude. Mi suscita un pochino questa immagine, però noi non dobbiamo dimenticare che anche le case di riposo sono una linea di fuoco pericolosissima per il numero di morti che possono generare e che può anche far saltare il sistema sanitario. Se torniamo al paragone dei soldati possiamo dire che se il virus riesce a sfondare nell'RSA, quello sarà una caporetto. Ogni giorno ci giungono notizie drammatiche su questa strage silenziosa, perché quella delle case di riposo è una strage silenziosa, si dà quasi per scontato che certi eventi lì possono accadere. Ricordiamo che a rischio ci sono mezzo milione di anziani nelle case di riposo, 30 mila soltanto nel Piemonte e sono i più fragili, sono quelli non autosufficienti e sono quelli che noi dovremmo proteggere per primi, primi di tutti. Anche in residenze noi vicine si verificano questi episodi, non so, a Villanova di Mondovia, Busca, Garessio, Donero, Brusasco e anche più vicini, quindi è una realtà che ci tocca molto. Il terzo ed ultimo appello invece lo voglio rivolgere in generale alla popolazione. Si sente dire che dopo il mondo non sarà più come prima. Io non sono tanto d'accordo perché non ho tutta questa fiducia sul genere umano che sia in grado di riflettere su quello che è accaduto una volta che questo sarà passato, però alcune cose dovranno cambiare sicuramente. Se vogliamo tornare a ciò di cui stiamo parlando, cioè alle case di riposo per gli anziani, sicuramente bisognerà rivedere qualcosa. Per esempio, bisognerà pensare che queste appartengono al corpo sociale, cioè appartengono alla realtà in cui esse sono inserite, appartengono a tutti noi, non sono dei luoghi dove noi possiamo destinare i nostri anziani, non dico dimenticarcene, ma considerarli un po' come una cosa a parte, inevitabile. No, loro pur stando nelle case di riposo fanno parte della società e questo si deve però poi trasformare in qualcosa di reale. Per parlare di qualcosa di reale faccio degli esempi. Noi ora parliamo di straordinarietà di interventi, abbiamo bisogno dei dispositivi di protezione, abbiamo bisogno delle misure di contenimento, abbiamo bisogno di nuove organizzazioni. E' bene ricordare che queste cose dureranno a lungo per tutti, ma per gli anziani molto di più, perché quando tutto sarà finito, per gli anziani probabilmente continueranno ancora, perché abbiamo scoperto ulteriormente qual è la loro fragilità. E forse non è detto che queste misure non si debbano adottare per sempre, queste modalità di avvicinamento alle persone fragili, o perlomeno fino a quando non si scoprirà un vaccino efficace. Ma anche su questo siamo ancora lontani. I vaccini, certamente c'è molto studio, ma sono ancora nella fase 1. Fase 1 significa quando si sta valutando di un prodotto farmaceutico la non nocività. Quindi non siamo ancora a valutare la sua efficacia. E' ancora lontano questo traguardo. E allora questi aiuti di cui noi abbiamo bisogno, sì, sono straordinari, ma purtroppo non sono a breve. Sarà una cosa che si verificherà ancora per molto tempo. Noi siamo, la casa di riposo nostra è un'istituzione pubblica, di servizio alla persona, questa è proprio la sua definizione. E questa bisognerà che la sentiamo come tale. Cioè noi non abbiamo fini di lucro. Come non siamo stati lasciati soli ora, in questo momento, avremo poi bisogno d'ora in poi di essere ancora accompagnati. E infine vorrei spendere due parole su un fatto che riguarda strettamente la nostra realtà. Quando è iniziato tutto questo, noi ci siamo trovati in grande difficoltà per reperire tutti i dispositivi, anche in difficoltà finanziarie, che per la verità già avevamo anche prima, ma qui sono state esaltate. Per superare questo problema io ho rivolto un appello alla popolazione e devo dire che sono stato immediatamente contattato da titolari di aziende del territorio, da presidenti di associazioni di volontariato, che sono un vero patrimonio della nostra realtà sociale, da cittadini privati e tutti hanno contribuito in qualche maniera, stanno contribuendo in qualche maniera per aiutarci. Quindi io approfitto di questo per ringraziare tutte queste persone e concludo dicendo loro che i soldi che raccoglieremo saranno impiegati per proteggere gli anziani e per proteggere i dipendenti, perché se si ammalano i dipendenti, gli anziani non sono più in balia dell'ignoto e non solo, ma se si ammalano i dipendenti diventano essi stessi dei potenziali individui infettanti. Quindi questi soldi saranno spesi per questo motivo. Io vi ringrazio molto e vi saluto.